Signori e fratelli in Cristo, la casa sollieva della sofferenza è al completo. Ringrazio i Benefettori da ogni parte del mondo che hanno cooperato. Questa è la creatura che la provvedenza aiutata da voi ha creato sulla presenza. Ammiratela e beneditene insieme a me il Signore Dio. E' stato deposto nella terra un seme che gli descalderà con i seraggi d'amore. Una nuova milizia fatta di rinunzi e d'amore sta per sorgere a gloria di Dio e ha composto le anima e dei corpi in verbo. Non ci prevate il vostro aiuto, collaborate a questa postulata di sollievo della sofferenza umana. E la carità divina che non conosce limiti e che è luce stessa di Dio e della vita eterna, accumulerà per ciascuno di voi un tesoro di grazie di cui Gesù ci ha fatto i reti sulla croce. Grazie. Grazie.